Aldonato Curci, Picerno non va oltre lo 0-0 contro il Marcianise, un pareggio che fa comodo agli ospiti e invece allontana il rosso-blu dal sogno salvezza. Davanti a circa 300 spettatori infreddoliti dal gelo, mister Arneos chiara lo stesso 11 che ha svanuncato il Viviani la settimana scorsa ad eccezione di Varriale. Partita morto noiosa, priva di occasioni clamorose, al secondo minuto l'angelo lungo di conti, perna controllo e calcio, Martino non impesierisce il numero uno ospite. Due minuti dopo rimessa laterale per il giallo-verdi, sponda di Santaniello e cross insidioso di Baratto, ma Loimere spinge la difesa lontana. Al dodicesimo calcio di posizione per il Marcianise, ma il cross di Lupertone è facile presa per l'estremo difensore Melandrino. Al ventunesimo ancora il Marcianisi che prova a pungere la difesa di casa, ma Loimere vigile e intercetta il cross. Al ventisettesimo è Catalano che prova a dare la scossa al Picerno, ma il suo cross non crea pericoli nell'area giallo-verde. Al trentanavesimo, l'occasione più nitida della partita, Ciano salta di Santis e mette in mezzo un traversone che trova Barone solo in aria, ma sulla traiettoria c'è Pascuccio che spinge un gol sicuro. Due minuti più tardi di reazione del Picerno che ci prova con Catalano sul calcio di posizione, ma la palla termina sopra la traversa. Il primo tempo si conclude con il nervosismo della panchina ostia. Nella ripresa il copione non cambia, poche occasioni e difese attente. Al quarantasettesimo il Picerno prova a sorprendere il giallo-verde con lo schema su punizione che però si rivela o nulla di fatto. Più tardi ci prova il marcialista su punizione, ma il cross di Moccia trova la respinta della tenta difesa rosso-blu. Mister Arleo prova a scuotere la partita, prima inserendo Esposito e Variale con un doppio campo e poco più tardi si gioca l'ultima carta con l'ingresso in campo di Enrico ed è proprio il neoentrato Esposito che al sessantanavesimo trova la girata verso la porta, ma senza successo. A dieci minuti a termine Variale batte un calcio di posizione a sorpresa, ma la palla termina sul fondo. Tre minuti più tardi la risposta del marcianese, Sorrentino su posizione e centra la barriera, sulla respinta il piombaciano, ma il suo tiro è sporcato da una direzione e non crea pericolo. Allo scadere si accende una discussione tra i giocatori del Picerno e la panchina del marcianese, ma l'arbitro deve intervenire per placare gli animi. Nel recupero l'ultima occasione per il Picerno, ma Catalano calcia male la posizione e il match si conclude con uno 0-0 che lascia lavare in bocca ai lucani.